Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ieri in un'intervista ha fatto il punto della situazione. Il numero uno del calcio italiano in sostanza ha detto che il rinvio di Euro 2020 è stato un auspicio condiviso da tutti ed adesso c'è una possibilità in più per chiudere gli impegni entro la deadline fissata al 30 giugno. Priorità alle competizioni nazionali con la possibilità di inserire le date per la Champions League e l'Europa League. I campionati sono autonomi, poi bisognerà tenere del conto delle coppe, altrimenti verrà rivisto il format. Se dovesse essere impossibile giocare tutte le gare entro proprio la linea fissata dalla federazione. Nel caso si ricorrerà alla modifica, l'UEFA ha indicato diverse ipotesi di partenza. Fine aprile, poi i primi di maggio e l'ultima ipotizzata ad inizio giugno. Finale di Europa League prevista il 24 giugno, mentre quella di Champions il 27. Oggi l'idea più concreta è la partenza ipotizzata al 2, al 3 o al 4 maggio. Per finire, entro il 30 giugno tutti i campionati con la possibilità di sforare i 10 giorni anche a luglio per completare il tutto. Altrimenti si ricorrerà a playoff e playout con la classifica ferma all'ultima gara giocata. Questa dunque la situazione a livello nazionale. È tornato a parlare il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che di fatto ha confermato il parere di Gravina. La Serie A può riprendere il 3 maggio. È quello che speriamo, poi valuteremo, se a porte aperte o chiuse. A queste si aggiungeranno la Champions e l'Europa League, che si incroceranno con il nuovo calendario. Mentre sulle tasse, prosegue Spadafora, abbiamo sospeso tutti gli adempimenti fiscali fino al 30 maggio per tutte le società sportive e gli affitti di proprietà dello Stato dove si svolge attività sportive. Infine, un cenno sulla possibilità di interdire l'attività all'aperto. Nelle prossime ore bisognerà prendere in considerazione un divieto di attività all'aperto. L'appello era ed è quello di restare a casa. Se non viene seguito, potremmo apporre un divieto assoluto. In tale ottica potrebbe arrivare un provvedimento anche in giornata. Queste le notizie che arrivano dal mondo nazionale sullo sport. È oggettivamente difficile parlare di ripresa delle attività nel momento appunto dove ci sono più casi. In particolare nella nostra regione stiamo vivendo la fase più difficile di tutta l'emergenza coronavirus Covid-19. Al contempo riportiamo ogni notizia in un'ottica positiva, una visione che si spera possa riportarci alla quotidianità nel più breve tempo possibile. Il calcio dilettantistico, quello della Serie D e dei campionati regionali, è assolutamente fermo. Il torneo di D è stato tra i primi a fermarsi dal 23 febbraio cancellando oltre 2.000 partite. Il Lombardia è parte del Veneto per le categorie inferiori e quattro gironi di Serie D. Ieri decise ancora una volta le parole del presidente Sibilia. A costo di scendere in campo ogni tre giorni occorre fare in modo di ricominciare e concludere la stagione agonistica. In sport americani come NBA ed hockey due gare alla settimana sono la regola. Non vedo perché da noi non possa essere applicata in via del tutto eccezionale. Quando c'è un imprevisto di solito ci si adatta ed è quel che faremo. Per noi, prosegue il presidente della LND, c'è anche la questione under che non va trascurata perché dal primo luglio, in linea teorica, c'è lo scatto di un anno per il loro inquadramento. Insomma, salvo un prolungamento imprevedibile, si ripartirà. Intanto le società molisane di Serie D hanno dato disposizioni per allenamenti a casa. Oggi vi facciamo vedere l'allenamento del tecnico dell'Olimpia nionese, Erminio Rullo. Nonostante una carta d'identità non più freschissima, è facile notare la forma, ma soprattutto la struttura fisica, dell'ex giocatore di Napoli e Lecce. Vediamo. Allora, no, io non mi preoccupare, Marlena. Allora, no, io non mi preoccupare, Marlena. Allora, no, io non mi preoccupare, Marlena. Allora, no, io non mi preoccupare, Marlena.